Papa Francesco prega per quanti in Africa soffrono a causa dell'ebola, ricorda le vittime di questa epidemia e la grande testimonianza di sacerdoti religiosi e religiose e degli operatori sanitari che sono rimasti al fianco dei malati a rischio della vita. Il Papa lo ha scritto nel discorso consegnato ai Vescovi del Ghana, ricevuti in visita ad Limina, auspicando che si rafforzi l'impegno per porre fine a questa tragedia. Nel discorso il Papa invita inoltre i Vescovi dei paesi africani a gestire i beni della Chiesa con onestà e responsabilità e questo soprattutto in una nazione nella quale la corruzione ha ostacolato il giusto avanzamento della società. La povertà materiale, aggiunge, può essere occasione per dare maggiore attenzione ai bisogni spirituali della persona umana e per questo incoraggia la Chiesa locale a sviluppare la collaborazione ecumenica interreligiosa che contribuisce all'armonia sociale del paese. Dato che il Ghana è stato risparmiato dalle divisioni tribali, etniche e religiose che hanno afflitto troppe parti dell'Africa, Papa Francesco invita i Vescovi ad essere promotori di unità e leader al servizio del dialogo.